Il bimbo si stanca presto di un giocattolo moderno e perfetto. È la verità. Un'esperienza che ogni genitore vive quotidianamente. Assillato, è il caso di dirlo, da sempre nuove richieste, da nuovi desideri che si appagano e si spengono nel volgere di pochi giorni, qualche volta di poche ore. Del resto, per avere una riprova di questa insaziabilità di giocattoli, basterà osservare la quantità e la vastità dei negozi di giocattoli. una conferma di quanto sia continua ed ampia la richiesta. Dentro, sui tavoli, tra le vetrine, si trova di tutto. Piccole e grandi suggestioni, oggetti semoventi e suoni non privi di fascino. Sì, signori, anche questo. E tutto per poter acconciare anche la bambola secondo l'ultimo grido del coiffure. Io sono simpatico. Che guarda la scuola. Abbasso le sculacciate. Aiuto, mi scappa! Alpierino dalla battuta facile, ordigni dai suoni metallici. Missili. Carri armati che saltano su terreni minati. Navi da guerra che esplodono cannonate e lanciano razzi. Molto che caglire. Sì, dai, la scuola di divina di에서ma. Da". Quasi, E nessuno che non ciò si clicca. La scuola di sviluppo di pièces ha fatto Non ciò? Ma l'obcata è stata ok.